Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore, una folla commossa ha partecipato con profonda partecipazione ai funerali di Giulia Cecchettina Padova. Migliaia di persone hanno affollato l'evento per dare l'ultimo saluto alla studentessa di Vigonovo, tragicamente assassinata lo scorso 11 novembre dal suo ex fidanzato, Filippo Turetta, durante la puntata di pomeriggio 5 di martedì 5 dicembre. Mirta Merlino ha avuto una conversazione in collegamento con lo zio della giovane. Durante questa conversazione, Merlino ha dichiarato che l'evento è un vero miracolo di Giulia, poiché sembra che nel paese sia avvenuto un cambiamento nella percezione della violenza di genere. Ha notato che l'Italia sta vivendo un periodo di trasformazione e ha affermato «qualcosa sta cambiando, l'Italia è stata vicina ai Cecchettin, anche perché sono una famiglia speciale», l'uomo ha ringraziato e commentato, sottolineando «noi siamo una famiglia normale, non siamo campioni». Andrea ha enfatizzato che in Italia ci sono molte persone per bene, proprio come la loro famiglia. Ha concluso dicendo «l'Italia è piena di gente per bene». La dichiarazione sottolinea l'importanza di affrontare e cambiare la percezione della violenza di genere e l'importanza di una comunità che si sostiene reciprocamente in momenti difficili. Lascia un messaggio per la famiglia di Giulia, ricordati di iscriverti al canale e lasciare un like al video per rimanere aggiornato. Grazie.